Allora, mi chiamo Pascolino Rocca, sono un ingegnere, un libero professionista e ho conosciuto Fabio tramite i social. Tramite i social perché, diciamo, anche io come lui ho avviato una pagina Facebook che riguarda il bonus facciate. Allora, tramite questa pagina ho avuto modo di sentire Fabio e appunto cercare di fare qualcosa di comune. L'evento è stato innanzitutto un modo per conoscerci di persona perché finora le nostre comunicazioni sono venute solo telefonicamente. E poi è stata una buona linea guida per capire come muoverci tutti insieme. Quindi avere una guida sull'iter procedurale e chiarire anche un sacco di cose che tuttora sono molto dubbie aiuta molto. In genere fare rete aiuta, quindi quando c'è gente professionista nel settore è una cosa molto positiva. Allora, ho preferito DetrazioniFacili.it perché innanzitutto Fabio ha trasmesso molta concretezza, è stato semplice nei discorsi e molto concreto. Quindi questo per me è stato un segno di poter lavorare con gente concreta. Quindi non le solite chiacchiere che ho sentito in giro, soprattutto in questo campo, con tutto gratis, tutto gratis. Ma da sempre Fabio è stato molto concreto su questo bonus che c'è in atto. Beh, consiglio DetrazioniFacili.it, condomini in genere privati, chiunque voglia essere certo di poter effettuare delle lavorazioni avendo la sicurezza di un lavoro portato a termine come si deve. Grazie a tutti.